Vittorio Brumotti in tour nel parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, lui che è stato scelto come testimonial dal presidente Tommaso Pellegrino per le bellezze del territorio e lo fa ovviamente a modo suo con la sua bicicletta con performance incredibili. La prima tappa è stata sul Monte Cervati a 1899 metri di altezza sul mare. Le immagini dal basso riprese dagli amministratori sanzesi che vi abbiamo mostrato ieri sono state emozionanti, ma ora l'inviato di Striscia la Notizia sulla sua pagina Facebook ha postato le immagini dal suo punto di vista. Prima quelle di un drone, poi dalla telecamera posizionata sul casco di sicurezza. A pochi centimetri dal baratro lo sportivo italiano mette in atto performance incredibili e adrenaliniche, ovviamente anche pericolose. Il suo tour continuerà in tutto il parco e infatti ha incontrato già Roscigno e Roscigno Vecchia soprattutto. Il sindaco Pino Palmieri aveva fatto lo stesso con Vittorio Esposito a Sanza e ha messo in atto le sue acrobazie su un albero nel centro del borgo degli Alburni. Una bellezza tra le bellezze.